siamo dunque in collegamento bene allora bentornati e anche bentornati a chi sta collegando attraverso zoom attraverso la casa sono francesco antonioni sono qui al posto di sandro cappelletto che mi ha ceduto la plancia di controllo degli interventi e sono molto onorato di poterlo fare allora in questa seconda parte del nostro tavola rotonda approfondiamo ulteriormente il ricordo di igor stavinsky appunto si tratta del cinquantenario della morte è venuto nel 1971 questa mattina per chi si fosse connesso soltanto ora sono stati interventi di sandro cappelletto di dario olivieri di marcello panni e di susanna pasticci ecco una particolarità e una bellezza di questa di questa nostra riunione è la grande varietà è la tipologia di interventi che si sono succeduti in questo caso jacopo pellegrini che è qui seduto vicino a me e prenderà di petto come fa lui di solito uno dei delle questioni più più spinose rappresentate dalla presenza di stavinsky a venezia quella qui abbiamo accennato prima in vari interventi cioè del fatto che quando stavinsky arriva a venezia rex progress treni canticum sacrum molti dei critici parlano dei lavori di un grande maestro ma non di grandi lavori e allora jacopo a te la parola grazie nelle intenzioni di marcello panni che ringrazio per l'invito insieme a vincenzo consolo istituto veneto di scienze lettere arti di cui sono stati soci due amici carissimi modelli inattingibili come mario messinis e giovanni morelli nell'intenzione dicevo di marcello panni questo intervento avrebbe dovuto coprire tutte le alcune notti a venezia del da me riassunte nel titolo in tedesco che vuole essere una parodia ovviamente ma riuscita dell'operetta eine Nacht in Venedig di Jon Strauss del 1883 Strauss il grande non il piccolo come diceva Ravel dell'autore del Bel Danubio Blu quindi appunto oltre a rex progress canticum sacrum e treni dal 51 al 58 ma la molle di materiale che ho raccolto nelle biblioteche romane in particolare al senato e alla camera e poi la visita di un giorno un breve giorno ma quanto utile all'archivio della biennale che ho compiuto ieri l'altro e voglio anche qui pubblicamente ringraziare due persone che hanno favorito questa mia visita Elena Cazzaro e Anna Marzetti Antonelli ha consigliato ormai da più di un mese che ho compiuto le ricerche a Roma di restringere l'argomento alla sola carriera del libertino così facendo in me rinascere un desiderio che avevo come dire un desiderio che avevo avuto oltre vent'anni fa in vista del cinquantesimo dell'opera che come sapete è stata eseguita nel settembre del 51 a Venezia quindi oggi settant'anni fa vent'anni fa per il cinquantesimo anniversario avevo pensato di fare un libro che tra le altre cose raccogliesse quante più recensioni su questa prima fossi stato in grado di trovare un po' sul modello dei dossier de press che fanno da decenni in Francia e tra cui ce n'è uno su Stravinsky sul Sacre a cura di François Lézio ma questo progetto non interessò nessuno degli editori che avevo a mia volta interessato e quindi è stato accantonato. I giornali degli inviati soprattutto italiani a Venezia in quei giorni parlano di 200-300 giornalisti presenti qualcuno parla di 200 qualcuno più frequentemente di 300 intendendo per questi critici musicali inviati giornali giornalisti generalisti e direttori di testate io ne ho trovato un'ottantina per adesso e poi anche notizie diciamo di agenzia notizie anonime su altri giornali comunque più che sufficienti direi questi 80 per coprire il tempo destinatomi ed è materiale in realtà molto poco esplorato fino ad oggi ci sono pochissimi accenni nei libri su Stravinsky o sul Rex Progress mi riferisco in particolare non so non c'è niente in non c'è niente in Eric Hall Walter White non c'è niente in Bukur Klief Ristagno nel suo libro su Stravinsky e Schoenberg fa una cenna con i giudizi ex parte avanguardistica che peraltro assomigliano a molti giudizi negativi ex parte reazionaria invece però non riporta nomi qualcosa c'è in un libro di Antonini che è un libro analitico di oltre vent'anni fa una tesi di laurea discussa al Dams di Bologna qualcosa nella biografia di riferimento di Walsh uscita ormai oltre un decennio fa devo dire che non ho visto prima di partire da Roma la guida sul reich di Griffiths quindi lì potrebbe essere se c'è qualcosa conosco in realtà due scritti sull'argomento della ricezione per così dire del Rex Progress a Venezia un saggio in un volume di che si intitola Igor Stravinsky sound and justice of modernism a cura di Massimiliano Locanto che contiene anche un saggio di Susanna Pasticci e questo saggio di Rosanna Giacquinta che almeno per me molto deludente dato che avendo fatto ricerche la Giacquinta che è una slavista dell'università di Udine credore in pensione avendo fatto ricerche sia la Paul Zuckerstiftung sia l'archivio della Biennale non mette a frutto assolutamente sul piano critico questi suoi queste sue ricerche questo materiale abbondantissimo da lei era interessantissimo da lei raccolto in più un saggio che more solito illuminato e luminoso di Adriana Guarnieri Corazzol in un programma di sala per una ripresa dell'opera a Venezia la Fenice nel 2014 dove anche Franco Rossi che curava una rubrica fissa nei programmi di sala della Fenice riporta alcuni accenni su due recensioni una però interpretandola in maniera sbagliata ecco io non conosco altro sull'argomento eppure si parla di una prima centrale nella storia della musica del novecento oltre che nella produzione di Stravinsky e l'argomento è ricchissimo come ho già accennato e spinosissimo l'11 settembre 1951 con tre giorni di ritardo sulla data prevista inizialmente va quindi in scena Rex Progress di Stravinsky nell'originale inglese accanto a moltissimi esponenti di quello che di lì a poco si sarebbe chiamato il jet set la mondanità internazionale e ai tantissimi già accennati addetti ai lavori musicali rammentiamo nel pubblico in loggione in loggione il costo del loggione era 3000 lire più 750 lire d'ingresso in loggione troviamo Mario e Sotirios Messinis e Mario Bortolotto altre persone che in questa sala sono state conosciute che sono note forse anche al di fuori di questa sala come vedete 3750 per il loggione era una cifra altissima ma ancora di più erano gli altri settori del teatro ovviamente le poltrone passano dalle 20 mila lire ufficiali non so se si riuscite a vedere questi sono i prezzi sono i prezzi il biglietto dei prezzi dalle 20 mila lire ufficiali si dice negli articoli che a bargarinaggio le poltrone passano a 40 mila i palchi da 50 o 70 a seconda dell'ordine fino a 80 forse 100 mila secondo fonti diverse un operaio nel 51 guadagnava circa 30 mila lire al mese quindi pensate anche il costo solo del loggione 3.750 d'altra parte la biennale a Stravinsky aveva riservato 20 mila dollari che corrispondevano a 4 nel bilancio consuntivo della biennale che ho fotografato e che ora non ho riportato qui tale immagini erano 14 milioni di lire di allora per la commissione a posteriori perché l'opera era già composta e per la direzione della sola prima recita e non 12 come riporta andrea della corte un po scandalizzato nella stampa 14 milioni ma l'incasso anche impressionante la fenice è un piccolo teatro l'incasso della prima del rex progress è 5 milioni 407 mila e 500 lire al netto dei bagarini ma dovete pensare che a questa città si bisognava aggiungere almeno altri 300 mila lire di abbonamenti e diciamo costi fissi di alcune barcacce date a circoli la seconda scese dove i prezzi si riducevano di oltre la metà a 905 mila 500 668 mila quindi non piena la terza recita seconda e terza dirette da ferdinand leitner direttore tedesco che aveva curato le prove a milano perché ricordate che orchestra e coro e allestimento scenico erano forniti dalla scala di milano la maggior parte degli altri appuntamenti del festival musicale di quell'anno però come incassi erano un po' sotto le 668 mila della terza recita perché si aggiravano a parte il requiem inaugurale diretto da De Sabata con l'orchestra e il coro della scala si aggiravano intorno alle 100 mila lire e anche molto meno delle 100 mila lire curiosamente i nomi che ho citato in loggione mario messinis e mario bortolotto sarebbero poi diventati entrambi esigeti della carriera di libertino per quanto su posizioni diverse entrambi testi molto significativi sul piano della critica ma questa prima recita come andò il successo leggiamo riccardo malipiero dal popolo dopo le due calorosissime chiamate all'autore direttore quando sale al podio prima dell'inizio dell'opera in corso della rappresentazione gli applausi si iniziano a scena aperta dopo il recitativo e aria di tom del primo atto qui c'è un la naturale del tenore e finisce sul fa acuto a chiamare l'applauso naturalmente applauso modesto come sentite comunque il primo applauso a scena aperta di quella prima rappresentazione molto più lungo e dopo il cantabile dell'area di han nel terzo quadro del primo atto alla fine del quale del primo atto si hanno otto chiamate di cui due alla sola schwarzkopf e questo anche per l'amore che portavano sia messinis che bortolotto al bra all'area di han e soprattutto a questo do sovracuto voluto da oden al posto della nota grave scritta inizialmente a stravinsky eseguito alla schwarzkopf quella sera ve lo faccio sentire anche se secondo me questa è la ripresa della cabaletta in don maggiore sentite sotto gli archi che sono quelli di smania implacabili di così fan tutte che sono ecco l'applauso copre addirittura l'orchestra poi che questo dossier davvero così bello avrei qualche dubbio però la ripresa radiofonica è del 51 quindi tutto può essere come va il resto dell'opera? quattro chiamate dopo il secondo atto che ha veduto calare di tono i consensi dice Lunghi, critico del giornale d'Italia e sei alla fine dell'opera quattro delle quali ha partecipato Stravinsky che era stato accolto ad ogni suo apparire sul podio da unanimi applausi queste sei chiamate alla fine per altri sono sei più quattro dieci più due dodici per altri sono addirittura una ventina per la Zanetti, per Emilia Zanetti favorevolissima addirittura una trentina ricordiamo che Emilia Zanetti aveva anche realizzato nel programma di Sala la famosa intervista sul Rex Progress a Stravinsky il programma di Sala che conteneva anche un testo di Oden già comparso nel numero estivo di tempo la rivista di Bose and Hooks in inglese qui tradotto in italiano a Venezia e un testo di Nikolaus Nabokov in generale sul teatro di Stravinsky forse gli era stato commissionato perché era stato lui a fare da intermediario con la Broca alla Rai e poi con Ballo direttore artistico del Festa Musicale di Venezia per portare la prima a Venezia quanto ai critici musicali sempre lunghi dal giornale d'Italia ci informa che chi poteva si ingegnò a studiare l'opera sullo spartito oppure si intruffolò in teatro durante le prove anche parziali con mille sutterfugi e da mille nascondigli alla seconda generale quella del 10 settembre diretta dall'autore i critici erano stati sistemati nascosti sotto il parapetto nel terzo ordine dei palchi alcune premesse sono necessarie intanto mentre la critica musicale proveniente dall'estero o i giornalisti stagneri corrispondenti dall'Italia sono in genere favorevoli comunque rispettosi e distingue nettamente le questioni formali dalle questioni estetiche la critica italiana basandosi su principi aprioristici su pregiudizi radicati commina volentieri i condanne a partire da presupposti di natura estetica il solito problema soggettivismo-oggettivismo che era stato dibattuto al congresso del maggio musicale del 1949 e anche Pizzetti che aveva da poco iniziato a collaborare al Corriere della Sera aveva una sua rubrica in terza pagina scriverà subito dopo la prima del Rex Progress un articolo violentissimo contro il neoclassicismo senza citare ovviamente la carriera di Libertino e in questa critica musicale italiana così imbevuta di principi estetici che sono ovviamente i principi estetici dell'idealismo crociano nella maggior parte dei casi non è possibile operare una bipartizione tra firme attive intestate di destra e firme attive intestate di sinistra la convinzione che prettamente della storiografia italo-francese che da sinistra si appoggiasse la musica moderna comincia ad affermarsi solo verso la fine degli anni 50 Pestalozza Manzoni Mila e nel 51 ovviamente non era per niente affermato il dogma dicotomico Schoenberg espressionismo progresso Stravinsky neoclassicismo regresso reazione tematizzato appena due anni prima ad Adorno nel mille nella filosofia della musica moderna e il 49 anche l'anno del primo congresso dei doti cafonici italiani però mentre Zafred dalle colonne di vie nuove settimanale di orientamento e lotta politica diretto da Luigi Longo quindi più il più a sinistra di tutti i periodici del PC condanna l'opera lui che sostiene le posizioni di Zdanov Mario Zafred compositore oltre che critico l'opera nuova di Stravinsky invece è accolta positivamente dal socialista di allora Leidi che scriveva per Lavanti il futuro etnomusicologo che ravvisa in quest'opera la dimostrazione della coerenza assoluta del cammino all'apparenza tortuoso compiuto da Stravinsky e che dunque la sua meta vera ultima era la classicità ma non solo lo difende Leidi lo difende anche appunto il critico del popolo cioè il quotidiano della DC che poi è il dodecafonico Riccardo Malipiero nipote di Gianfrancesco che aveva organizzato quel convegno del 1949 quanto al dualismo Stravinsky-Schenberg è sì utilizzato in due articoli uno di Giuseppe Pugliese che esce per il Gazzettino che scrive per il Gazzettino era il critico del Gazzettino Pugliese vediamo se trovo i modi di farvi vedere la foto del giovane Pugliese vedete eccolo qua questo credo sia Pannain invece sulla sinistra però non sono sicurissimo questo è sicuramente aveva 27 anni credo Giuseppe ma 28 forse non lo so non lo so confesso la mia ignoranza sulle facce dei critici musicali italiani dell'epoca è un argomento che conosco abbastanza ma non in vol non in vol no non direi con Fagnoni Eric perché era pelato credo ma comunque usa proprio come incipit per l'esordio della sua recensione la contrapposizione tra Stravinsky e Schoenberg come i due massimi rappresentanti della musica contemporanea e oltre che nel gazzettino il suo articolo esce nella gazzetta il popolo di Torino nel Corriere del popolo di Genova in momento sera a Roma ma sono tanti i giornalisti che propongono in più sei di loro articoli il campione di questa gara è un tedesco Hans Rutz che oltre a scrivere articoli equilibrati sobri ne scrive oltre una decina e sparge per Austria Germania e Svizzera e poi questo tema della contrapposizione del dualismo Stravinsky e Schoenberg compare anche in un articolo del Times di Londra dell'autunno 1951 dove il critico musicale si riferisce il fatto che c'è stata la prima del ex progress e dice che i due grandi esponenti della composizione moderna sono appunto Stravinsky e Schoenberg ma mentre Schoenberg è stato un'importante figura sul piano teorico ma non un compositore cioè non dice neanche cattivo buono non era un compositore Stravinsky almeno in passato era stato un grande compositore varie ricusazioni che quest'opera riceve e sono parecchie aggiungono però dopo molti riconoscimenti in ordine sia alla qualità altissima della fattura artigianale che è ammessa da quasi tutti ma anche condannata in quanto che è sentita come alternativa alla dimensione dell'espressione dei sentimenti di cui parlava prima Susanna Pasticci quindi l'artigianato nega l'ispirazione secondo molti critici sia alla bontà stessa dell'ispirazione in alcuni punti è riconosciuta nonostante ciò l'opera nonostante che sia ben scritta e nonostante che in alcuni punti sia ispirata è condannata perché perché da Stravinsky si rifà a linguaggi o a citazioni letterali di altri compositori del passato cioè il fatto che egli pratichi una parodia nel senso etimologico del termine sullo schema formale in uso sempre a dire dei critici anche dell'autore nell'opera italiana del tardo settecento del primo ottocento pezzi chiusi e recitativi sia secchi che accompagnati anche se poi in realtà la forma non corrisponde a quella dell'opera del tempo la struttura delle aree e dei duetti non è quella di fine settecento e solo raramente quella di inizio ottocento e questo fatto della parodia sia strutturale sia delle idee melodiche basta ai critici per condannare Stravinsky anche se alcuni riconoscono che dopo le prime battute che Stravinsky copierebbe lui poi come dire li sviluppi in forma personale ma il fatto che talvolta si sente a Noechi di Mozart che è il più citato ma poi anche Gluck Rossini Bellini Donizetti Verdi il primo Verdi ma c'è anche chi legge in quest'opera una risposta al Falstaff da parte di Stravinsky che come sapete non lo amava al Falstaff ma c'è anche chi cita Masnè chi Ciaikovsky oppure entrando indietro Bach Parcell Lulli Endel Vivaldi tutto questo fatto è sufficiente a rifiutare con sdegno l'opera dunque il rifiuto dell'eclettismo dell'invenzione sull'invenzione è chiaramente da riportare a come già ho accennato a quei canoni estetici dell'idealismo crociano alla distinzione tra poesia non poesia alla svalutazione della tecnica come elemento in sé quindi l'artigianato e al diniego della differenza tra generi e diremmo oggi livelli di stile non esiste il serio e il comico sono solo facce diverse di una stessa espressione dell'arte questi canoni sono adottati dai critici ovviamente dai crociani ortodossi ma anche dai crociani non ortodossi come per esempio Giulio Confalonieri nel tempo di Milano i crociani ortodossi sono Pannain della Corte Valabrega Parente ovviamente quindi Rossellini eccetera eccetera in due casi però Mila dell'unità Massimo Mila e la Zanetti nella fiera musicale questi elementi di condanna invece partendo dalle stesse posizioni idealiste sono rovesciati rovesciando la prospettiva negativa in positiva l'abilità di Stravinsky sotto l'apparenza più semplice cela un lavoro elaboratissimo che dice la Zanetti è il culmine della sua carriera insieme al capolavoro del razionalismo morale dell'autore che restituisce una regola a un'epoca irregolare mentre lo stile composito questa è una citazione da Mila cessa di essere un limite di essere visto come un limite per diventare un fomite però va anche aggiunto come notava già finemente Adriana Guarnieri che per un meccanismo quasi automatico quello che si studia tende immancabilmente a piacere di più e la signorina Zanetti come era chiamata nei comunicati stampa della Biennale Musica perché era anche ufficio stampa della Festival di Musica Contemporanea la signorina Zanetti aveva fatto l'intervista nel programma di sala e Mila in concomitanza con la prima scaligera in italiano del Rakes Progress della carriera di Libertino che si terrà l'8 dicembre giorno successivo all'inaugurazione della stagione 51 darà alle stampe una guida proprio sulla carriera di Libertino per l'Istituto d'Alta Cultura una casa editrice di Milano quindi come dire il loro amore per l'opera è anche una proiezione di un'interna di un proprio impegno esegetico un'altra reazione allergica dei critici musicali alla decisione di comporre da parte Stavinsky un'opera a numeri un'opera fatta di ari duetti terzetti quartetto eccetera eccetera e Stavinsky come sapete detestava il dramma musicale e preferì a parole a dichiarazioni preferiva l'opera italiana il melodramma nelle note dell'incisione discografica del 1964 cita come sue amatissime opere amatissime un ballo in maschera il rigoletto di Verdi in altre occasioni oltre a Mozart ha citato l'elisir d'amore di Donizetti e la furtiva lacrima accompagnata dal fagotto trova un eco come si sa nel cantabile di Anne nel primo atto che è accompagnato da un fagotto ma la preferenza di Stavinsky per il melodramma contraposto al dramma musicale è vissuta appunto dicevo con un'allergia dai nostri critici idealisti perché il dramma musicale nel senso in cui intendeva intendevano il sintagma Wagner e poi i suoi successori Pizzetti in primis per l'Italia dell'epoca e il dramma musicale è termine fisso d'eterno consiglio per i crociani ortodossi è un modello a cui tutto va riportato e al cui metro tutto va misurato infatti della corte sulla stampa e anche nella rivista musicale italiana dopo aver iniziato rilevando che Stavinsky voleva scrivere un'opera e non un dramma musicale poi dopo pur approvando diversamente dai suoi colleghi crociani nella carriera del Libertino quando elenca alcuni difetti sono difetti tutti legati al fatto che lui non ha scritto un dramma musicale seguito continuo senza interruzioni ma al fatto che ha scritto un'opera fatta di pezzi chiusi e quindi non gli piace nei recitativi e non capisce perché in certi momenti non abbia fatto forme più aperte delle forme chiuse ecco però c'è anche chi se la prende con Stravinsky preventivamente prima dell'ascolto sempre a proposito di dramma musicale se la prende con Stravinsky per alcune sue dichiarazioni cioè Guido Piovene lo scrittore celeberrimo veneto era anche inviato nel Corriere della Sera e va negli Stati Uniti nell'estate del 51 prima che agosto Stravinsky parta per l'Italia e lo intervista in California e Stravinsky non so se in francese o in inglese gli dice che lui ama l'opera non ama il melodramma ovviamente è Piovene che non capisci gli avrà detto dram musicale musical drama e lui lo traduce melodramma e allora succede che sul Corriere di Informazione versione pomeridiana del Corriere della Sera Adriano Lualdi compositore già critico musicale del secolo rappresentante della corporazione dei compositori fascisti presso la Camera dei Fasci Lualdi fa un articolo violentissimo che lui dice ecco Stravinsky dice che odia il melodramma e ama l'opera ma le due cose sono la stessa cosa come si fa a amare una e non amare l'altra semplicemente non capendo che Stravinsky aveva per l'ennesima volta ribadito la sua idiosincrasia per il dramma musicale e Lualdi insiste perché anche quando scriverà una recensione per il quotidiano Roma di Napoli e dirà comincerà alla recensione dicendo io avevo detto parla male ma razzola bene Stravinsky parla male del melodramma ma poi scrive un vero melodramma e su questa base anzi lui approva da destra perché se la prende con i dodecafonici è una sorta di adorno rovesciato un po' alla matriciana rende omaggio a questo rilancio del melodramma italiano compiuto da Stravinsky i frantendimenti linguistici devo dire sono parecchi a cominciare non solo nel lessico usato a Stravinsky ma a cominciare dalla lingua inglese che quasi nessuno sapeva ed ecco che allora ci sono molti fraintendimenti anche struncature sul contenuto e il tono del libretto che piace ad alcuni ma non piace a molti altri e poi molto più scottante il tema del rapporto tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America cioè la visione che in Italia si ha degli Stati Uniti d'America dobbiamo pensare che nel 51 veniamo subito dopo 20 anni di retorica fascista che proclamava la superiorità della razza italica naturalmente e anche chi non ci credeva probabilmente a forza di sentirselo ripetere e non conoscendo non avendo cognizione diretta degli Stati Uniti ci avrà anche creduto pensate ai libri sugli Stati Uniti di Emilio Cecchi degli anni 30 che sono carichi di pregiudizi e di razzismo rovesciato e soprattutto quello che poteva infastidire non solo i critici ma la percezione degli Stati Uniti da parte degli italiani sconfitti non solo provenienti dalla retorica fascista ma provenienti dalla guerra e dalla sconfitta della guerra era il fatto che l'Italia in Italia tutti e tutto dipendessero dalla benevolenza degli Stati Uniti dal piano Marshall quindi la musica l'arte per la quale la vecchia Europa presumeva di essere sempre stata superiore al nuovo continente e quando proveniva dall'America quando proveniva da oltreoceano l'arte la musica non la letteratura l'arte visiva e la musica e Stravinsky si era fatto cittadino americano e non veniva più in Europa dal 39 ed era completamente ormai assimilato al coté statunitense per la critica musicale italiana tutto ciò che proviene dal teoreoceano è avvertito come corrotto degradato perché degradato appunto dalla dimensione commerciale consumistica in uso come dire che privarrebbe assolutamente in tutte le menti anche le più illuminate negli Stati Uniti che era proprio la dimensione più odiata quella del consumismo la dimensione più odiata oltre che dall'americano Stravinsky dall'americano Oden come ci dice chiaramente il quadro dell'asta l'inizio del terzo atto con il qui il momento in cui Selem presenta Yukno presenta l'oggetto che non sa cosa sia che è Baba la Turca sentite la meccanicità dell'impulso ritmico che poi ora sfocia nel balzerino che è un tipico balzerino alla Stravinsky naturalmente può pensare un organetto di Petrusca ammorbidito naturalmente e qui ricomincia Baba dal vocalizzo che aveva interrotto nel secondo atto come potete sentire anche da questi frammenti capite bene che Stravinsky che è il critico del Sunday Times dice che aveva diretto tutta la recita con la testa ficcata nella partitura e che aveva fatto ben poche prove insomma la recita andò così così sul piano dell'andare insieme dell'essere insieme dall'inizio alla fine però tutto sommato la sua idea riesce a trasmetterla pur non essendo un direttore virtuoso come è ben noto comunque questo rifiuto in generale della cultura e della musica proveniente da oltreocena della musica americana credo che non vada a letto nella chiave di Harold Bloom dell'angoscia dell'influenza a cui forse si può riportare alla contrapposizione che alcuni stabiliscono tra Menotti e Stravinsky dando la palma a Menotti che è comunque italiano di nascita pensando al console che ha tratti stravinschiani di questo grottesco stravinschiano ovviamente e Emilio Radius per esempio che era un nemico della biennale un nemico della musica moderna dice che in fondo allora meglio Menotti di Stravinsky ma è piuttosto un altro concetto che è stato come dire definito da un gruppo di studiosi statunitensi coordinati da Jeffrey Alexander quello del trauma culturale a cui bisogna leggere questo rifiuto di Stravinsky in chiave americana come dice Alexander in una prefazione di un volume da lui curato su questo argomento del trauma culturale è costruendo traumi culturali che gruppi sociali talvolta società nazionali identificano l'esistenza e la fonte delle sofferenze umane ma anche accettano accettano su di sé una responsabilità significativa per questa sofferenza l'aver perso una guerra vuol dire anche aver perso una supremazia culturale e dover dipendere quindi anche culturalmente non solo economicamente da un mondo diverso e considerato inferiore collegata alla decadenza culturale indotta dal soggiorno americano alcuni avanzano anche la possibilità di una decadenza delle facoltà intellettive e dell'ispirazione di Stravinsky ormai prossimo ai 70 anni i non troppo gentili ed educati Pannain e Rossellini per esempio si parla poco di musica in questi articoli italiani perché ovviamente l'idealismo il crocianesimo della tecnica si disinteressa e Lualdi ne parla un po' soprattutto riporta otto esempi musicali da lui manoscritti che aveva inviato al quotidiano se ne parla un po' da parte italiana Guido Maggiorino Gatti però nella sua recensione per il musical quarterly tradotta in inglese invece è impressionante l'approfondimento sul piano delle funzioni tonali e delle strategie armoniche della Neue Zürcher Zeitung che però potrebbe essersi rifatta all'articolo preventivo scritto da Eric Walter White per Tempo la rivista inglese che ho già citato dell'editore Bosene Hox l'editore di Stravinsky anche critici sfavorevoli colgono alcuni aspetti per esempio Teodoro Celli del Corriere Lombardo che stronca l'opera però ne riconosce l'entità pur nel citazionismo imperante l'entità di opera del Novecento il fatto che sia un'opera del Novecento e moderna per lui è una diminuzio non un tratto caratterizzante e vi avverte una profonda tristezza che è un'altra osservazione tutt'altro che sciocca e altri invece non sono colti per esempio la dimensione del soggetto fiabesco è talvolta raramente accennata ma non approfondita e non viene ravvisato se non come esteriore o come falso il peso che invece ha e che è fortissimo sia in Oden che in Stravinsky del messaggio morale e spirituale diciamo pure religioso che è nel Rake's Progress e che avrebbero approfondito nel corso degli anni successivi nei libri nei programmi di sala Roman Vlad Bruno Cagli e Mario Messinis che ho già citato alcuni pezzi che a noi almeno a me sembrano bellissimi come il terzetto del secondo atto tra Antom e Baba nella portantina sono del tutto ignorati altri sono poco apprezzati i quadri comici soprattutto il personaggio di Baba il grottesco del personaggio di Baba è rifiutato ma quello è il sospetto per il comico che è tipico delle filosofie idealiste alcuni sono apprezzati da certi commentatori e vengono sentiti noiosi da altri per esempio il quadro del cimitero dove sapete a Venezia fu usato il pianoforte come anche per i recitativi e non il clavicembalo previsto in partitura anche se come alternativa possibile il pianoforte riportato probabilmente per la difficoltà a rintracciare uno strumento all'epoca a Venezia un clavicembalo oppure per questioni di sonorità in teatro comunque riguardo ai disegni pianistici o clavicembalistici del cena del cimitero di cui potete sentire è molto divertente il critico del Sunday Times Abrahamian che parla di zerni exercises esercizi pianistici e ne parla non in chiave negativa come altri comitatori stranieri ma è una osservazione acuta e poi ci sono invece gli episodi apprezzati da tutti intanto il personaggio di Han soprattutto che comunque è considerato il più caratterizzato il più lirico il più ispirato il più spontaneo il più espressivo Mosco Karner che non era certo un idealista lo apprezza altrettanto che Teodoro Celli gli altri personaggi in genere invece soprattutto Tom sono considerati falliti o considerati marionette in questo influenzati dal precedente teatro stravinschiano e tra i brani di Han ancora più dell'aria viene apprezzata la Ninna la Ninna Nanna nell'ultimo quadro nel terzo quadro del terzo atto nel manicomio e non a caso Bortolotto con il suo istinto per il bastian contrario dirà che è il pezzo più noioso e insoffribile dell'opera trent'anni dopo questo dormire questo che è come il russo e lui lo riproduce esattamente la Ninna Nanna di Yolanta e lo stesso verbo ecco chiedo scusa e qui concludo questo anche il coro e la morte di Tom il coro di compianto sul suo corpo vengono spesso apprezzati mentre tutti detestano la morale definitiva il finale insomma il ritorno al comico perché dopo che si è raggiunto il tragico il serio non si può tornare indietro questo è Stravinsky scusate ho fatto le foto da dentro le buste dell'archivio della Biennale si vedono le nuvole in cielo e Stravinsky che si avvia verso il podio la sera della prima qui invece un sorriso c'è Ghiringhelli che non ride molto il sorritenente della scala qui era stata scippata la prima europea perché vendendo la prima mondiale a Venezia e la prima europea alla scala come aveva fatto Stravinsky lui perdeva tutto in realtà perché si era la prima europea però la prima mondiale era stata a 200 km quindi il sorriso era un po' forzato ma fu costretto da Andreotti dal governo a cedere Ghiringhelli e qui invece Victor De Sabata e Stravinsky che si stringono la mano quindi orchestra buona coro a proposito del fatto di capire e non capire l'inglese tutti i critici elogiano il coro della scala per come canta l'inglese meno però Stravinsky Vera e Kraft e Oden che dicono ma parlavano una lingua incomprensibile e questo è Stravinsky ha un ricevimento uno dei due tre decimenti che si tennero nel 51 con la sua Venezia sul fondo e come dire anche se l'esecuzione fu tutt'altro che eccelsa insomma fu anche nei commenti di Vera Stravinsky sufficiente a far capire la qualità dell'opera e a ottenere quello che quasi tutti definiscono un grande successo ma alcuni un successo di cortesia un successo mondano ecco questo è un mistero che probabilmente sulla sincerità o meno del pubblico non riusciremo mai a definitivamente sciogliere grazie grazie Jacopo sempre pieno di informazioni e di di piacevoli aneddoti ma anche di considerazioni importanti tra l'altro mi viene in mente che a proposito dell'accenno che facevi sulla sudditanza culturale sul fatto che l'opera arrivi da fuori dall'America nel 64 Rauschenberg vince la Biennale di Venezia e già ancora 13 anni dopo la prima della X-Poges ancora torna quel tema comunque si tratti di un un tipo di cultura talmente lontana che come dire comunque era avvertito come qualcosa di diverso soprattutto pensiamo che Gottuso e Trombadori dettavano ancora a linea la cultura di sinistra nel 64 ma invece Stravinsky il barbaro Stravinsky russo che ha rinnegato il suo essere russo che ha tentato di farci europeo e poi si è fatto americano torna in Europa con un'opera che rifà l'opera europea anzi l'opera italiana è considerata un'offesa e un affronto un affronto vero e proprio una sfida una sfida che non può essere che rifiutata a cominciare dal fatto che quando si cita quando non si si rinuncia al soggettivismo al romanticismo all'ispirazione si compie un errore estetico imperdonabile e che come dire è inutile discutere di una cosa che già di per sé è sbagliata questa è la posizione generale poi in realtà ci sono anche voci non solo straniere ma anche italiane favorevoli da destra come da sinistra però non c'è come dice Riccardo Malipiero all'inizio della sua critica tutti hanno dei loro pregiudizi e nessuno vi rinuncia l'America comunque è il luogo dove si trovano per ragioni diverse quelle che Jacopo Pellegrini ha identificato e prima di lui un certo adorno come i massimi compositori dell'epoca questo è appunto Schoenberg e Stavinsky e allora a questo punto chiamerei Enzo Restagno a parlare di Schoenberg e Stavinsky così come dal nostro programma grazie grazie posso restare qui o devo andare via come user grazie grazie